Ciao a tutti Erasmus ha detto che se sopravviviamo Manchino lo mangio Manchino lo mangio Grazie, io cazzo era la morte con lui, garantito Cosa scendiamo? Scendiamo, scendiamo Manchino lo mangio Oh cazzo Sì, sono amido dai via dai via commenti a caldo è fighissimo ecco l'acca l'acca e e qua l'acca anche che prima dei cosa Ciao, ciao!